Ripartiamo con Advisory Update, l'approfondimento di oggi, l'approfondimento del pomeriggio e che vedete anche dal nostro titolo. La morte di Calisto Tanzi, primo gennaio 2022, l'anno nuovo ci ha accolto così, come avevo anche detto in mattinata, in apertura di live, insomma con la celebrazione dei vent'anni della nostra moneta unica, l'euro e anche con un lutto, con la scomparsa con il quale portò Parmalat dalle stelle, lo portò alle stelle e poi alle stalle con un crack che sostanzialmente viene ricordato ancora come un'azienda che ogni giorno entrava nella casa di milioni di persone, non di spettatori e che rappresenta la più grande fabbrica, avevo perso la frase che mi ero segnato, la più grande fabbrica di debiti nella storia del capitalismo europeo, definito così anche dagli inquirenti che ovviamente poi portarono avanti i processi. E noi di questo tema partiamo da questo tema, anzi meglio, con il nostro ospite che è Eugenio Sartorelli, che è un nostro analista di riferimento. Eugenio, ben trovato in nostra compagnia, investimentivincenti.it. Ciao Eugenio. A centro il quadro. Ciao Giacomo, buon anno, buongiorno a tutti. Direi che la sfortuna di Tanzi è che il crack è nato solo otto anni prima o sette anni prima del momento in cui invece se fosse venuto fuori l'avrebbero salvato. Purtroppo nel 2003 ancora non c'era la stampatrice di denaro che era la banca centrale. Se no li l'avrebbero salvato, tranquillamente. Lo avrebbero salvato e lui fece un po' di tutto per salvarsi. Ricordiamo che l'azienda crebbe a vista d'occhio, ma basandosi sui debiti, attraverso i debiti e ripianava debiti creando ulteriori debiti. E così una piccola azienda di collecchio, un caseificio, poi ricordiamo che Tanzi, morto a 83 anni, ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma, non per Covid, ma per un'infezione polmonare. Alcune intuizioni le ebbe e furono anche quelle, diciamo, riconosciute che le vediamo tuttora, insomma, nella nostra vita di tutti i giorni. Il Tetra Pak, che scoprì in viaggio a Stoccolma e fu lui a importarlo in Italia e il processo ultra high temperature era il latte ULUT o a lunga conservazione. Tu, Eugenio, lo bevi fresco o lo bevi a lunga conservazione? No, io uso spesso proprio quello che la Parma lanciò proprio in quegli anni durante il fallimento, cioè il microfiltrato. Il microfiltrato? Il microfiltrato perché è quasi, ha quasi il buon sapore del fresco, ma due a circa il triplo dei giorni, due a circa 8-10 giorni e quindi vale la pena perché diversamente non riesci a consumarlo in tempo o te lo devi bere per forza, ecco. Perché è importante, Eugenio, questo caso? È importante e viene ricordato, ma non perché viene ricordato in maniera virtuosa, viene ricordato perché comunque ricordiamo che anticipò in qualche modo poi quella crisi del sistema finanziario, in qualche modo quella sbornia finanziaria che arrivava dal boom degli anni 70 e degli anni 80. Dopo Tanzi ci fu, dopo Tanzi, dopo il caso Parmarat e il caso Ciro, ci fu la crisi dei Mutui Supreme, delle Lehman Brothers, di Anton Veneta, del Monte Paschi di Siena, successivamente negli anni 2000, però in qualche modo Parmarat aprì la strada e viene ricordato soprattutto per quei 60.000, forse di più 80.000 per l'associazione consumatori, sono forse anche il doppio risparmiatori che di fatto si ritrovarono con in mano solamente carta straccia per quanto riguarda le obbligazioni che furono emesse per la Parmarat anche da banche importanti, da banche come JP Morgan, come Merrill Lynch, ha conferma che era una crisi evidentissima, come ha detto Eugenio, che durava già diversi decenni, ma che di fatto era sfuggito, mi permette di usare questa espressione e poi tu la correggerai, ai grandi agenzie di rating, alle autorità di controllo, alla stampa, a tutti quanti. Sì, diciamo che hanno voluto non vedere, credo che ci siano anche delle sentenze molto chiare su questo, in cui sono stati anche condannati il Revisore dei Conti, società Revisore dei Conti, e la Consob poi, visto che Carlisto Tanzi era papa e ciccia con molti politici, giusto per dire, lo stabilimento del Sud Italia l'ha fatto a Nusco, non dico altro. No, no, diciamolo, Nusco, sindaco e Cirieco De Mita, ex segretario DC, fu anche presidente del Consiglio e sul Panfilo, dove Tanzi andava in vacanza, c'era sempre lui, c'era sempre Cirieco De Mita. Ma chiaramente non è successo niente a De Mita, perché lui ha sempre fatto tutto per il bene della società, della società ovviamente, non la sua società per azioni, della società italiana ovviamente. Detto questo, che diciamo sono stati assolti praticamente tutti i politici, va bene, la cosa importante è che è stata la Consob ha stretto un po' i controlli, ma ripeto, ha fatto, forse non lo dico senza aver guardato i numeri, forse ha fatto più danni, Anton Veneta ha fatto i più danni, Banca Montepaschi, e ha fatto di più, però le hanno salvate. E è successo in un momento sbagliato, ripeto, se fosse successo nel periodo dello stampificio di denaro, probabilmente sarebbe tutto andato in sordina, avrebbero defenestrato il buon tanzi, la società l'avrebbe presa un'altra o qualcun'altra, l'avrebbe acquistata per un euro, perché si accollava tutti i debiti, e insomma in qualche modo, come si sta facendo adesso ormai da anni, il debito diventa infinito, cioè sposto, che è quello che fanno tutti gli stati, no? Io ho un tot debito, lo aumento, ma lo pagherò all'infinito, e quindi lo pagherò all'infinito ci arriveremo, no? Saremmo tutti vivi all'infinito, quindi è veramente una battuta, e quindi in questo modo i debiti si pagano sempre. Ecco, ricordo che quando si presta male il denaro, si può buttarlo anche dalla finestra, e quando c'è tanto denaro si presta male, se però quanto c'è tanto denaro poi salvi quelli a cui lo presti male, e si crea un meccanismo non virtuoso, per cui chi dovrebbe prestare denaro bene, e chi invece dovrebbe gestire il denaro prestato bene, non lo fa più, perché dice, tanto mi salvano, ecco la situazione dei prossimi anni sarà questa. Sarà esattamente questa, perché in questo momento si sta dando denaro, a destra e manca giustamente, ma molto denaro viene dato a cose improduttive o addirittura negative, o a cose che sono dei buchi neri, e però si pensa tanto ci sarà sempre in qualche modo arrivare la liquidità dalla banca centrale, e allora si può andare all'infinito. Ecco, nel 2003 questo non era possibile, nel 2003 ancora si ragionava che il debito prima o poi, se non tutto, lo dovevi restituire, e devo dire tra l'altro chi sarebbe da citare, che tra l'altro è tornato in carcere poco fa, che è Fausto Tonna, il genio finanziario, che non credo fosse neanche laureato, ma questo non vuol dire, cioè il laureo non è una certificazione di capacità assolutamente, Fausto Tonna è stato il genio finanziario di questa Combine, in cui oltre a non vedere bene i conti, diciamo, in un certo modo era anche bravo lui a nascondere bene il continuo richiesto di finanziamenti per poi ripagare il debito che scadeva, un po' come Evergrande. Ecco, Evergrande ha un buco che non è paragonabile a quello di Parma, il buco di Evergrande è in commesso, rispetto agli asset, è giusto, butto giù una cifra, dieci volte superiore a quello di Parma, però la salvano, Evergrande la salvano, perché è too big to fail, e poi c'è la banca centrale che in qualche modo la salverà. Ecco, ripeto, tanzi in un altro momento sarebbe uscito dalla porta di servizio in Sordina, e anche Tonna, e non sarebbe accaduto nulla. Beh, hai citato uno delle figure chiave, lo hai detto tu, Fausto Tonna, che fu, pare, proprio l'autore a mano, che aveva scritto a mano assieme a Calisto Tanzi, quel documento che avrebbe dovuto garantire, perché poi ovviamente se chiedi soldi in prestito devi anche dare una garanzia di base, devi dimostrare di avere una liquidità di fondo, insomma, è quella liquidità che appunto Tonna e Tanzi avevano certificato con un documento scritto con un copia e incolla anche attraverso fotocopiatrici, insomma tutto vero, fu davvero così, per mostrare sostanzialmente che c'erano quasi 4 miliardi, diciamo, dietro Bonlat, una società che era stata collocata in uno dei paradisi fiscali tipo le Cayman, ma che poi si scoprì che insomma quel documento era carta a straccia, non c'erano quei soldi e fu, diciamo, l'ultimo pezzo a far cadere, il primo pezzo a far cadere il castello assieme a 150 milioni di bond che avrebbe dovuto restituire agli investitori e che invece sostanzialmente Tanzi non aveva a disposizione. Tu Eugenio già operavi a quell'epoca, mi hai detto. Assolutamente, io sono trader, mi considero trader professionista dal 1999, dove, perché da quell'anno mi considero trader professionista, perché da quell'anno i miei introiti, oltre il 50% dei miei introiti derivavano dal trading, ma quindi le operazioni sulle opzioni per me le ho fatte nel 1996, io stavo nei borsini negli anni 92, 93, 94 andavo nei borsini delle banche per chissà cosa sono i borsini, non sto a spiegarlo, ma... Eh beh, altra epoca, altra epoca. Sì, altra epoca, allora non c'era il televideo, cioè i dati li vedevi da televideo, non esisteva il computer, ma non esisteva il World Wide Web, o meglio esisteva, ma non esisteva come era attualmente. E qui andavo nei borsini e operavo lì, però nel 2003 già operavo in maniera con vari broker online e sul collasso di Parmalat, io ovviamente non ho fatto analisi tecnica assolutamente, però ho acquistato Parmalat e l'acquistai che era intorno a 0,5, circa 2000 e qualcosa euro, l'acquistai perché mi giunse notizia da persona abbastanza fidabile che l'avrebbero salvata, cioè gli amici politici di Tanzi l'avrebbero salvata e quindi era facile che il titolo potesse perlomeno darmi, quindi l'obiettivo era perdo il 100%, ma guadagnerò più del 100%, quindi ci stava come operazione. Un investimento diciamo. Sì, un investimento sulla news, cioè su delle news, il grafico era deficitare, cioè era assolutamente da rendere o da shortare per chi poteva, però è importante dal punto di vista delle opzioni, è un caso di cui ne parlo sempre e la prima volta ne parlai poi avevo a borsa italiana, perché spesso vi tengo conferenze a borsa italiana, perché chi acquistò put su Parmalat, perché lui si dice compra put, ti difendi dal rischio rovina, purtroppo non è così, la tua put vale fino a quando il titolo è quotato, ma fino a quando il titolo viene sospeso in maniera indefinita, la tua put non vale più niente, o meglio vale quello che l'hai pagata, cioè non ti copre più, fino a che Parmalat quota fino a 0,001, 00001, la tua put ha un valore enorme ovviamente, e se l'hai acquistata, se l'hai venduta è una perdita enorme. Se però il titolo viene sospeso, non c'è più il sottostante, quindi la put non vale più e quindi ti viene restituito il denaro che hai, con cui l'hai pagata, cioè se l'avevi pagata, che ne so 100 euro, ti restituiscono 100 euro. Ecco, quindi lo ricordo a tutti, parlo sempre del caso Parmalat per questo, una put non ti copre dal rischio rovina, una put ti copre dal rischio discesa finché il titolo è quotato, quando il titolo viene sospeso in maniera indefinita, purtroppo la put non ti copre più. Quindi ricordatevelo questo, è molto importante, io non la feci la put, persi circa 2.500 euro, ma ripeto, non ho rimpianti perché l'operazione era per avere un profitto ben superiore a 2.500 euro. Ricordiamo che Parmalat oggi è la diciassettesima società industriale italiana, fattura 7,5 miliardi, questo grazie anche insomma al risanamento avvenuto da il manager che già aveva risanato Montedison, parlo di Bondi, il quale insomma anche attraverso un braccio di ferro piuttosto lungo e forte con le banche, ha raccolto diversi miliardi ripagando oltre il 50% di obbligazionisti e fino al 64,8%, altri con meno insomma, però diciamo che non sono rimasti tutti con le tasche vuote, qualcosa è stato ripagato, poi nel 2011 è stato rilevato dalla francese Lactali e quindi quel crack disastroso diciamo è stato in qualche modo risanato dal punto di vista dell'azienda che peraltro aveva dei benefit clamorosi, i lavoratori di Parmalat ai tempi avevano diciamo un trattamento ottimo, forse il migliore nel settore, ricordo anche perché non l'ho ancora detto le condanne, bancarotta fraudolenta 8 anni, aggiotaggio oltre 17 anni e poi il crack non solo di Parmalat ma anche di Parmatour perché poi tanzi si inoltrò nei più variegati settori dal turismo, Parmatour al calcio, il Parma e ovviamente i tifosi del Parma lo ricordano come il presidentissimo perché la gloria maggiore è stata raggiunta con lui, Coppa Coppe, Coppa UEFA contro la Juve, Supercoppe europee, anche Coppa Italia con giocatori insomma Buffon, Cannavaro, Aspriglia, Zola, Crespo, Chiesa quindi insomma giocatori c'è un pallone d'oro, ci sono giocatori che ha vinto il mondiale, tutti grandi, Christos Tojkoff quando vinse il pallone d'oro, l'anno successivo al pallone d'oro, quindi furono tutti pagati dal primo all'ultimo centesimo ma era già una fase in cui Parmalat era in crisi in crisi di debito, erano gli anni 90, Parmalat si quotò in borsa e questo fu il primo segnale diciamo così, dopodiché insomma il declino è stato quando Eugenio raccontava proprio uno degli aspetti chiave che era molto legato a Calistotanzi, forse in maniera eccessiva alla politica, la sua conoscenza con Cirico De Mita ma anche con le banche importanti, la banca di Roma di Cesare Geronzi e lui insomma anche aiutato quantomeno probabilmente Eugenio non so come ne pensi tu ma probabilmente queste sue spericolate incursioni nella finanza erano dovute proprio a amicizie politiche che forse l'avevano convinto di essere invincibile, allora rilevò la Cirio da Cragnotti per 700 miliardi per ripanare il debito che Cragnotti aveva raccolto con Cesare Geronzi, rilevò anche le acque minerali di Ciarrapico, rilevò Odeon TV perché c'era il periodo in cui De Mita da una parte, Crazzi dall'altra, Craziava Berlusconi e De Mita voleva anche lui un elemento che potesse fare da diciamo avversario di Berlusconi e quindi rileva una società, rileva un'altra, ti accolli i debiti facendo altri debiti, alla fine la bolla è scoppiata. Sì, ripeto in altri tempi, in altri tempi l'avrebbero salvata. Sì, nel senso che tra l'altro è citato un altro diciamo onestamente tra Tanzi e Cragnotti preferisco mille volte Tanzi perché Tanzi perlomeno faceva prodotti, Cragnotti era veramente un pirata della finanza, un pirata non c'è altro da dire un pirata della finanza, cioè queste persone che riescono a fare le cose con i soldi degli altri. Perlomeno Tanzi costruiva Cragnotti, onestamente non mi viene, a parte lo scudetto con la Lazio, mi viene in mente poco di cosa ha costruito, ha sempre depredato. Invece Tanzi ha cercato di costruire, certo, poi se ti compri i giocatori con i soldi degli altri capite perché quando hai credibilità tu puoi avere credito illimitato. Se hai credibilità, questo vale anche per gli stati, perché il Giappone può permettersi il 260% del debito e non ha l'inflazione e la Turchia invece, vado a memoria, potrebbe avere il 60% del debito del PIL rispetto al PIL e invece ha un'iperinflazione. La credibilità fa la differenza e poi oltre certi livelli però non te la puoi giocare la credibilità e lui è andato oltre e probabilmente ci sono saltate anche delle coperture politiche perché ricordiamoci che non c'è il politico che ti copre da tutti i rischi perché c'è il politico che è avversario di quel politico lì che invece appena può ti fa lo sgambetto. Per colpire il politico colpisce l'amico del politico, quindi sono saltate anche alcune coperture nel caso di tanti. Se c'è qualche libro sicuramente ci sono dei libri, io non ho letto nessun libro ma la vicenda l'ho seguita molto da vicino, parlando anche con persone direttamente coinvolte e è molto intricata la questione, molto molto intricata, quindi vi invito se volete capire bene tutto l'intreccio che c'è sotto di andarvi a leggere qualche buon libro che pare di questo. Tra l'altro mi dicevi anche tu, io non lo sapevo, mi dicevi tu Giacomo che hanno fatto pure un libro, un film che non sapevo di questo film, quindi anche lì anche quello potrebbe essere una buona visione per capire non del caso Parmalat ma per capire come le commistioni possono portare a caso Parmalat e probabilmente in questo momento ci sono tanti altri casi Parmalat, ce ne sono un sacco di casi Parmalat che però sono lì messi sotto il tappetino e probabilmente rimarranno ancora per molto tempo lì. Il gioiellino è il film di cui parla Eugenio, film del 2011 diretto da Andrea Molaioli, protagonisti Tony Servillo, Remo Girone, Sara Felberbaum e Lino Guanciale, quindi insomma attori anche conosciuti ed è un invito sicuramente a guardarlo, non è un documentario, è un film ispirato, quindi l'azienda è un altro nome, i nomi sono diversi, però sostanzialmente è un film che si ispira in maniera tra e spunto dalla vicenda del crack Parmalat e che ha avuto anche alcune candidature per il Davide Donatello e mentre Eugenio ci raccontava un po' insomma della sua esperienza, vi ho mostrato anche i titoli dei giornali, la truffa coi trasferelli e altre storie di Calisto che venne Gio a Natale, particolare come sia proprio il periodo delle festività natalizie a fotografare la sua decaduta perché era Natale sostanzialmente, eravamo intorno al 20 dicembre 2003 quando fu ufficializzato il crack Parmalat e invece festività natalizie 2021-2022 abbiamo salutato per l'ultima volta Calisto Tanzi, qui insomma il ritratto e questo è il fatto quotidiano ma come detto un po' tutti quanti ne hanno parlato, questo è in titolo di Repubblica, l'imperatore del latte che conquistò l'Italia e finì per tradirla, poi ancora vediamo se ne trovo altri, questo è sempre Repubblica, questo è sempre Repubblica, questo è il fatto quotidiano e poi Cractanzi il titolo della stampa, morto a 83 anni l'imprenditore che fondò la Parmalat e finì per truffare migliaia di piccoli risparmiatori doveva ancora scontare 18 anni, lui molto cattolico ha scontato gran parte della condanna nella sua villa e ha chiuso sostanzialmente chiedendo scusa ai risparmiatori che alla famiglia. Peraltro l'ultima notizia da lui è arrivata, l'ultima parabola il 20 ottobre 2019 a Milano sono state battute all'asta per 12,5 milioni di Euro 55 opere, tesoro che aveva nascosto prima del Crack, Picasso, Monet, Van Gogh, Kandinsky, Ligabue, Chagall, il ricavato ha contribuito a rimborsare i creditori di quella bancarotta. Giusto ricordare dunque insomma dal mio punto di vista questa vicenda per i motivi che vi abbiamo raccontato ma è una vicenda anche molto complessa diceva in effetti Eugenio quindi insomma speriamo di avervi fatto anche da stimolo per andare a documentarvi un po' di più a leggere qualcosa in più di questa di questa vicenda. Eugenio il tempo che ci è rimasto è poco io qui torno sui mercati ma vorrei girarti una domanda che ci arriva da casa. Noi stamattina abbiamo parlato di Tesla e Tesla è un po' insomma sulla bocca di tutti per i risultati del 2021 e insomma di Elon Musk ne parla anche Don't Look Up il film di Caprio di Netflix insomma in cui c'è una parodia una caricatura di Elon Musk che oramai quindi è diventato un personaggio conosciuto da tutti e allora su Tesla che ieri abbiamo visto ha guadagnato oltre il 13 per cento questo amico dice se dovessi scegliere una put su Tesla a breve termine consiglierebbe una scadenza settimanale una scadenza mensile intendo conclude il nostro amico una long put a 1200 o 1400 o magari entrambe domanda abbastanza tecnica te la senti di rispondere Eugenio? Sì sì assolutamente perché io sono compratore a oltranza di put su Tesla ma a oltranza ma con una logica diversa faccio vedere il grafico vedendo un grafico così nel breve che corregga dove si guadagna con la puzza si guadagna in due modi uno col grafico che va dalla parte opposta ma non c'è niente che mi dica che possa succedere secondo con la volatilità che sale la somma delle due cose fa fare dei profitti potenzialmente enormi non del cento per cento ma del tre quattro cinque mille per cento anche però da questo grafico come io non ho nessuna ipotesi di quando come perché possa accadere quindi nel breve io non me la sentirei posso solo dire che quando la Fed se lo farà incomincerà a ridurre l'immissione di denaro cioè dopo marzo è sicuramente tra i primi titoli che saranno meno comprati io credo che saranno i soliti Apple Google Tesla perché perché scuotano dei multipli che non hanno assolutamente senso fino ad allora io non mi sento di dire che non possa guadagnare ancora aggiungo che se poi succedono altri eventi che possono essere negativi non per Tesla ma per i mercati potrebbe esserci una correzione molto più importante sul Nasdaq quindi io non me la sentirei di comprare un'opzione su scadenza breve però se la dovessi prendere la prenderei su questi supporti intorno a 900 io mi sono comprato delle put scadenza gennaio 2023 con strike 300 euro 300 dollari io non credo che Tesla arriverà a 300 dollari ma quando scenderà farà molto rumore e scenderà molto rapidamente e le mie put che scadono adesso a gennaio quelle che ho preso esattamente l'anno scorso a inizio dell'anno scorso e farà oltranza ogni anno così io posso anche sbagliare cinque volte i prossimi cinque anni ma penso che l'unica put che mi andrà bene guadagnerò almeno dieci volte tanto e quindi sono abbastanza sereno Tesla ci sarà un momento in cui tornerà a valere qualcosa che ha a che fare con i mercati e a proposito di questo parlo anche di un'altra cosa e vi faccio che riguarda sempre il mercato automobilistico perché qui c'è un altro uno dei grandi misteri allora giusto il veco scende e va bene Stellantis continua a salire vi faccio vedere qui intanto vediamo il mitico vi faccio vedere fausto tronna il genio della finanza genio cioè non era in gamba oh perché sale Stellantis auto più 5,5 metra colazione in italia nel 2021 e vai tutti a comprare Stellantis peccato che se ti vai a leggere questo questo articolo ti dice eh sì però ha fatto meno 27,5 rispetto a dicembre dell'anno scorso ripeto meno 27,5 beh leggo testualmente le parole del centro studi promotor il primo dato statistico sul 2021 quello se non metrivocazioni auto è purtroppo catastrofico lo ripeto catastrofico è giustamente Stellantis sale e beh questo è un tema comprate ecco tutti andranno tutti a comprare auto anzi la cosa che mi stupisce perché Stellantis sale visto che tutti comprano Tesla non è che per caso sta salendo Stellantis e qui lo dico anche senza battuta perché potrebbe essere anche così a questo punto non è che magari Tesla si vuole comprare Stellantis a questo spiegherebbe tutto mercato catastrofico del mercato auto Stellantis che sale e allora sarà Tesla che lo sarà volto comprare eh sì perché poi dicembre 2000 rispetto a dicembre precedente si parla di dicembre 2020 che non è un anno particolarmente positivo per quanto ci sono stati gli incentivi eccetera eccetera post covid gli analisti gli analisti mi dicono eh ma poi quando arriveranno i microcipro venderanno tanto sì ma il bilancio di quest'anno farà schifo eh di tutte le case automobilistiche perché non riescono a consegnare auto perché ne hanno non riescono non ce la fanno non hanno non hanno il materiale per consegnarlo vedremo dopo vedremo dopo se consegneranno tutte queste queste auto tra l'altro sempre in questo interessante articolo si parla del fatto che gli incentivi governativi se ne parla proprio qui l'UOI ribedisce il forte sconcerto per la decisione delle istituzioni di non assegnare nella legge di bilancio le risorse economiche per incentivare il mercato dell'auto quindi non c'è neanche da dire che il governo darà regalerà soldi per comprare auto a destra manca ecologiche aiuterà ma in maniera non così clamorosa quindi togliendo Tesla che quota evidentemente i razzi che vanno sulla luna è Stellantis io rimango basito quindi delle due luna o Musk sta per comprare Stellantis o Stellantis sta per creare un suo razzo per andare anche lui sulla luna sì probabilmente potrebbe essere anche questo potrebbe che Stellantis su licenza Tesla produrrà delle tesi anche anche perché alla fine è così perché veramente non non c'è proprio logica cioè qualsiasi fondamentale è disatteso su questo grafico di Stellantis qualsiasi vedrete il bilancio ne esce fra poco a fine a fine gennaio uscirà il bilancio 2021 vedrete vedrete che multipli ci quota con queste valore qua intendiamoci la fusione tra i due tra Peugeot e Fiat crea sicuramente dei vantaggi di circa 3 miliardi di euro l'anno ma non giustifica un rialzo di questo tipo di fronte a un vendite ripeto catastrofiche nel 2021 dopo un 2020 che è stato catastrofico cioè io rimango perplesso su questo ci aggiorneremo ovviamente a fine gennaio su per quanto riguarda Stellantis ma noi con Eugenio Sartorelli torneremo invece molto prima intanto ti ringrazio Eugenio investimenti vincenti.it per seguire la sua attività e la sua operatività alla prossima e buon buon proseguimento buona giornata grazie ciao Giacomo buona giornata a tutti